Ciao carissima, ciao carissimo e benvenuti sul mio canale! Io sono Bea, la vostra insegnante di italiano e faccio l'insegnante di italiano qui a Brasilia da più di 10 anni. Oltre a questo fatto, sono anche un biomedico, cioè mi sono laureata in biomedicina con la specializzazione, cioè il master, in neuroscienze. In poche parole, mi interesso dell'apprendimento delle lingue straniere, in maniera più specifica la bella lingua. Sono anche una mamma, ho una piccola figlia e mi interesso tantissimo di Italia, ragazzi. Ho vissuto a Milano per quattro anni quando ero molto piccola ed è per questo motivo che sono stata alfabetizzata prima in italiano e dopo in portoghese. In questo canale ho l'intenzione di pubblicare, di condividere con voi argomenti, contenuti sempre rivolti all'apprendimento della lingua italiana. In poche parole, contenuti di grammatica, di cultura, lessico, viaggi, tecniche di studio e tante altre cose. Quindi se tu ti interessi della lingua italiana, se studi la lingua italiana sia dai livelli più basici che ai livelli più avanzati o che semplicemente ti interessi, trovi la lingua molto bella e vorresti ascoltare una che parla italiano, ti suggerisco fortemente ad iscriverti sul mio canale e ad accompagnarmi in questa missione settimanale. Allora spero che questo canale ti piaccia, ti do il benvenuto e che la luce del conoscimento e della conoscenza sia sempre con te. Arrivederci e buona visione. Ciao!